Lavoro a ridosso dell'ultima ora di luce, nella metitura del giorno. Il caos delle auto decomposte nel percorso. In orario di chiusura del super sale il restante numero di persone e io mi dileguo nell'attestazione del vento. Lui è un compagno distratto a volte. Anche l'albero alla parete si è interestito. Aspetto l'autunno come se potesse salvarmi. Grazie.